Buongiorno a tutti ragazzi siamo qui in questo nuovo video roba e qui accanto a me c'è per... Digi ovviamente del noto sbagliato Allora, io sono Gros Demi e siamo qui nei Pirati dei Caraibi e iniziamo a start Allora, una partita, ovvio Quattate gli uccelli che morano con gli uccelli, insieme a gli uccelli, con gli uccelli E se vedete la grafica, bellissima, io ci stiamo col telefono Quattro? Diblioso E cosa da teo, per me? Come a me a dirvi Wow Si, io, per me cosa E cosa da teo, per me? Ok Premio come sai una brusola è speciale a chi è che paura? ah no non è così complicato ah perfetto non vieni non so chi sei ma io so Jack Spadler Spadler cioè un po' che paura io spado la gente perché non mi sono non so ma perché apprezzano turisti non ho più esperienza di te che buono Jack la mirateria non è solo Jack e anche mentre I'm eh non si vede tanto bene semmai registrano con il mio giornale questo il mio è diciamo un pochino adatta a ma più o meno andiamo Jack puoi farcela con se andiamo Jack andiamo Jack 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 sール o cadanti sciacchi unter disappears i e ce e any Scusate, guardate i libri della dimora, della carne fresca. Qua non c'è nessuno. Non si può sbagliare il vignato? No, devi scendere. Bene, ordiniamo la gente. Bene, le persone pigliano a pugnino poi la porta. Io vedo nel manuale del piatta senza paga. Non mi c'ha detto? Sì. In piatta senza paga. La piattaeria non è solo saccheggio, è anche sovrannaturale. Fratello. Ah. Qua sei tornata? Rincolo. Ok. Ok. Ah, ok. Sì. 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 Poi l'altro che non aiuta. Penso che noi siamo super... Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sì, bucola. Ma spettacolo? Ah, non so potente. Sì, bucola. Sì. Correre, correre come un regino. Ah, non so che cosa sono. Faccio un altro face. Dai, ammazzalo. Vanno di peggio, hai capito? Vai di spalle. Ah, bella la depreazione della schiena. Aspettate. Jack, la pirateria non è solo... Mamma mia, questa mamma ho fatto, pirateria sopranaturale, sopravvallata, una cosa chiesa, ma veramente non gli hai. Dov'è? Dov'è sei? Ti seguito dalla mappa. No, ma mi sa che devo saltare, ho fatto passare la peggena. No, non penso. Non c'è. Ah, spero, mi è uscita una cosa... Sa lì, quella è la mappa, gira dall'altra parte. Ah. Devo ritornare indietro, eh? Non lo so. Le sequenze ho intanto indietro. Aspettate, poi non mi trovo poi i commenti. mangiare indietro. Non c'è nessuno, non si può fare passare poi. a i 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